Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA V Perché oggi andremo a parlare di una cosa abbastanza interessante Ovvero andremo a parlare di GTA VI Un GTA V più 1, che 5 più 1 fa 6 Sì, sì, devo chiedere alla mia professoressa di matematica Però grosso modo dovrebbe fare 6 Vabbè, cavolate a parte ragazzi, oggi andremo a parlare appunto di Grand Theft Auto VI Più che altro andremo a parlare su dove secondo me, secondo noi, secondo voi, insomma secondo tutti Sarà ambientato questo nuovo capitolo di Grand Theft Auto Quindi ragazzi, oltre alla mia opinione che vi lascerò qui in questo video Voglio assolutamente la vostra opinione qui sotto nei commenti Che è la cosa più importante, secondo me, di questo video Ovvero la vostra opinione Ragazzi, come al solito, prima di iniziare, io vi invito a lasciare un bellissimo like a questo video Arriviamo a 1000 like, in questo modo mi supportate, ma mi fate vedere che ci siete Commentate, facendomi sapere che cosa ne hai pensato appunto di Grand Theft Auto VI E di dove secondo voi sarà ambientato Se proprio invece non avete nulla da dire Comunque commentate con l'hashtag che vi lascerò verso la fine del video In quel modo sarete comunque partecipi del video E in tal caso, per ringraziarvi, vi lascerò anche un bellissimo cuoricino Quindi verso la fine del video ti lascerò un hashtag che dovrai scrivere qui sotto nei commenti Ultimissima cosa ragazzi che aggiungerò nei video da ora in poi È il fatto che di seguirmi su Instagram Seguitemi su Instagram Anzi, vi faccio una sfida Andate sotto l'ultima foto del mio profilo Instagram Oltre a seguirmi, commentate con Commentate con GTA 5 più 1 uguale 6 Così, fate questa cosa In questo modo, chi lo farà lo saluterò nel prossimo video raga Bene ragazzi, detto questo direi di poter iniziare con il video vero e proprio Stavamo parlando di GTA 6 GTA 6 è un capitolo che secondo me ancora oggi parlarne è un po' troppo presto a dire la verità Però comunque è stata rilasciata un'informazione che ho letto su internet E vi lascio anche la pagina internet dove l'ho letta Che in questa notizia, in questa pagina di internet Parla di appunto tre possibili luoghi dove potrebbe essere ambientato GTA Io, una volta che ho letto quest'articolo Comunque youtuber di GTA 5 che sono Ho deciso di parlarne insieme a voi In modo da capire che cosa ne pensate anche voi Che cosa ne pensano gli altri oltre me Inizio col dire che non so quando uscirà GTA 6 E nessuno lo sa Tranne la Rockstar ovviamente Beh vabbè comunque stavamo parlando Allora in questa pagina web dice che appunto Le tre possibili, le tre probabili città in cui verrà ambientato GTA 6 Sono state nascoste sotto il nostro naso Sotto i nostri occhi Fino ad ora In che senso sono state nascoste sotto i nostri occhi? Nel senso che su GTA 5 ci sono degli indizi Che potrebbero lasciare a pensare Che GTA 6 potrebbe essere ambientato in questi paesi Inoltre la Rockstar non è neanche nuova a questi indizi A questi easter egg che lascia nei giochi Quindi non c'è neanche da sorprendersi più di tanto Il primo luogo che dice in questa pagina web Ed è quello che non conoscevo in assoluto Ed era quello che non conoscevo Non ho mai visto questa cosa E mi ha davvero stupito E' stato il fatto che sotto alcuni ponti Nei pressi della mesa E' presente una silhouette di uno skyline Dice proprio il sito Che cosa significa? Significa tipo Significa la vista di un paese Insomma lo skyline significa i bordi di un paese Vabbè comunque cercatevi su internet che significa skyline Significa vedere un paese di fronte che so di notte E vedere i bordi del paese Questo qua significa Detto proprio la c***o di cane Questo paese sarebbe Edimburgo Edimburgo che comunque è fuori dai paesi statunitensi Quindi la cosa si farebbe interessante Se la Rockstar si decidesse a portare la saga di Grand Theft Auto Fuori dai paesi statunitensi Però dubito seriamente che questa cosa possa essere presa in considerazione In quanto la Rockstar ha sempre fatto il Grand Theft Auto negli USA Quindi dubito seriamente che la Rockstar faccia un Grand Theft Auto Fuori dagli USA Ma la cosa sarebbe interessante a dir la verità Certo vedere un Grand Theft Auto in Francia non più di tanto Non mi piacerebbe perché altrimenti vedrei tipo baguette ovunque Vedrei insomma i giocatori che si ammazzano con le baguette Anziché con le mazze da baseball Quello si capisce per quale motivo invece c'è questo skyline di questo paese Edimburgo O forse è stato messo così per caso Beh la Rockstar diciamo che non mette nulla così per caso in realtà Quindi secondo me un piccolo motivo o una piccola cavolata ci sta dietro questo disegno Un altro paese che potrebbe essere diciamo luogo di un prossimo Grand Theft Auto È North Youngton Beh pensandoci ci potrebbe stare e allo stesso tempo no E ora vi spiego Beh North Youngton è una città che ormai esiste a tutti gli effetti Quindi magari potrebbero fare una cosa davvero carina Anziché un Grand Theft Auto 6 Un Grand Theft Auto Diciamo prequel Prequel significa prima di quello che è successo più o meno Potrebbero fare una cosa carina In quanto possiamo vedere appunto come sono cresciuti i nostri criminali Ovvero Michael, Trevor e come caspita si chiama con l'altro Vabbè quei tre personaggi ci potrebbe stare e fare un prequel con quei tre personaggi E vedere come appunto si sono conosciuti E come hanno fatto a diventare quei criminali Insomma per quale motivo sono diventati criminali Eccetera 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 E sarebbe molto interessante Soprattutto concludere poi quel gioco facendo di nuovo il prologo Concludere il gioco con il prologo di GTA V Sarebbe fantastico Voi che ne pensate? Stavo dicendo per quale motivo invece North Youngton non potrebbe essere una città Per il prossimo Grand Theft Auto vera e proprio Beh perché è una città appunto troppo piccola È una città sperennemente innevata caspita O almeno per quello che abbiamo visto Non c'è una vera e propria motivazione per il quale North Youngton non può essere una città Di un Grand Theft Auto nuovo a tutti gli effetti Però io non ce la vedo Non so per quale motivo non ce la vedo Voi ce la vedete una North Youngton come una nuova città Per un nuovo GTA 6 Ah tra l'altro per quanto riguarda prequel e quant'altro È praticamente più o meno quello che è stato fatto con GTA 4 GTA 4 e dopo di che hanno fatto E che poi hanno fatto uscire un altro e due GTA 4 Sempre nella stessa mappa Ovvero Liberty City Però avevano storie diverse Beh più o meno la stessa cosa Una storia parallela al GTA 4 Però in questo caso in un GTA 5 prequel Sarebbe una storia leggermente prima di quello che è accaduto Ultima cosa che dice in questo sito Che comunque ne andremo a parlare ora E il fatto che potrebbe esserci di nuovo il ritorno di Vice City Per quale motivo? Beh perché comunque si su GTA 5 lo sappiamo già da tempo Perlomeno molti lo sanno già da tempo Ci sono dei riferimenti a Vice City Come appunto degli asciugamani per terra sulla spiaggia Dove c'è scritto I love Vice City È stato già parlato tantissimo tempo fa Per quanto riguarda Vice City su un prossimo GTA Ci starebbe a dire la verità Ci starebbe un ritorno a Vice City Ma non lo so Secondo me la Rockstar farà delle cose in grandi Secondo me sarà tutto nuovo Tutto nuovo Una nuova città Una nuova ambientazione Del tutto nuovo Nel Liberty City Nel Los Santos Nel Vice City Secondo me la Rockstar troverà una nuova città Un nuovo paese Dove appunto ambientare la nuova storia Però sarebbe un po' troppo ripetitiva Nel senso Ah di nuovo Vice City C'è a chi piacerebbe Però deve essere fatta altrettanto bene E c'è chi magari preferisce Preferirebbe una città del tutto nuova da esplorare Perché magari Vice City Sì Con una grafica diversa Con la mappa diversa La conosciamo Però una nuova città Del tutto diversa Sarebbe ancora Molto ma molto più figa Secondo me Dopo che la Rockstar lo ha già fatto con GTA 5 Appunto Los Santos Che è diciamo la mappa di GTA San Andreas Non penso che farà la stessa cosa Nel prossimo capitolo Penso che lo farà nel capitolo dopo ancora Cioè nel senso fa diciamo Uno sì uno no Uno sì uno no Potrebbe fare così Secondo me è la cosa migliore tra l'altro Ragazzi L'hashtag di oggi è Hashtag Hashtag luogo Per quale motivo? Perché appunto abbiamo parlato del luogo Dell'ipotetico luogo Del prossimo GTA Quale sarà secondo voi tra l'altro Il luogo del prossimo GTA? Scrivetelo qui sotto nei commenti Con un vostro pensiero Inoltre non vi dimenticate Di usare l'hashtag O di commentare solo con l'hashtag Fatelo E io vi ringrazierò Con un bellissimo cuoricino Detto questo Continuiamo Comunque queste sono tutte chiacchiere Sono tutte roba di corridoio E quindi non è detto nulla Non è detto che Edimburgo potrebbe farne parte Questo è proprio da escludere Secondo me Però è giusto per dire Che potrebbe far parte Una città europea Speriamo no Parigi Ripeto Un North Youngton Quella storia del prequel Secondo me ci sta tantissimo E un Vice City? Sì Ci sta un Vice City Però non nel GTA 6 Secondo me no Mi raccomando Dateci sotto A scrivere la vostra opinione Perché è interessante Voglio sapere la vostra Io vi ho dato la mia opinione Qui in questo video Domenica vi ricordo Che ci sarà la serie Come ogni domenica D'ora in poi La serie Di come fare i soldi Su GTA 5 Quindi non perdetevela Dato che il primo episodio Vi è piaciuto abbastanza Quindi ragazzi Vi ricordo di dare la vostra opinione Qui sotto nei commenti Di commentare con l'hashtag Che vi ho lasciato Pochissimo tempo fa E di seguirmi su Instagram E fare quel giochetto Di GTA 5 Più 1 Uguale 6 Sotto la mia ultima foto Di Instagram Vi lascio il link di Instagram Qui nei commenti Entrate anche nel mio canale Telegram Bene Detto questo ragazzi Noi ci possiamo benissimo Vedere al prossimo video E Ciu ciao Ciao